Amici dell'ABA, studenti non studianti, tec sursucorda. Allora, campagna di Russia. Con la campagna di Russia sostanzialmente inizia la fine di Napoleone. Oramai tutta la grande coalizione d'Europa, l'Inghilterra, la Prussia, l'Austria, eccetera, sono definitivamente pronte a dargli la spallata finale. L'esercito francese, fortemente indebolito, viene sconfitto in maniera sorprendente conoscendo il genio di Napoleone nella battaglia di Lipsia, in Germania. La Francia viene invasa dalla coalizione e addirittura Parigi occupata. Napoleone è costretto ad abdicare. Gli fu assegnato però il possesso dell'isola d'Elba, sì, come se fosse l'imperatore, ironia terribile della sorte, il grandissimo imperatore Bonaparte, che diventa imperatore della piccolissima isola d'Elba, lontano, lungo le coste della Toscana, come sapete. Sul trono di Francia ritorna Luigi XVIII, il fratello di Luigi XVI ghigliottinato, perché Luigi XVII, il figlio di Luigi XVI, era morto in carcere. Quindi gli succede il fratello e tutto, pensate un po', ritorna esattamente come era prima. Terribile, rivoluzioni, spargimenti di sangue, eccetera, per assolutamente nulla, almeno in apparenza. Ma dopo meno di un anno di esilio, Napoleone approfitta del diffuso malcontento dei francesi nei confronti del nuovo re e ritorna a Parigi acclamato dalla folla esultante, è scappato dal suo esilio dorato dell'isola d'Elba. Ricostruisce un esercito e questa volta però accontro tutta l'Europa. Ma il suo genio militare sta per vincere ancora una volta. Ma arriviamo alla battaglia finale, una battaglia di cui avete certamente sentito parlare, la battaglia di Vaterlo in Belgio. 18 giugno 1815. Napoleone tenta di sfondare le truppe nemiche, ma la resistenza degli inglesi, guidati dal famoso duca di Wellington, consente ai prussiani di ritornare e di sconfiggere questa volta i francesi. È andato vicino all'ennesima clamorosa vittoria, ma questa volta la sorte, caro Napoleone, ti è girata male. Si consegnò agli inglesi, i quali questa volta non lo riportano all'isola d'Elba, ma la riportano nella più sperduta isola dell'Oceano Atlantico, proprio in mezzo all'Oceano Atlantico, l'isola di Sant'Elena, dove morirà in solitudine, dopo aver scritto le sue memorie, il 5 maggio, ricordatevi questa data, 1821. Perché vi dico del 5 maggio, ricordatevi questa data? Ve lo dico perché un grandissimo poeta italiano, Alessandro Manzoni, dedicherà una famosissima lirica, una famosissima poesia. Che dire della figura di Napoleone? Una figura certamente molto controversa. Fu un dittatore? Fu un tiranno? Per qualcuno sì. Fu un modernizzatore? Fu un patriota? Per qualcun altro certamente sì. Ma quello che possiamo dire con certezza è che la sua eredità è stata straordinaria e non è certamente andata perduta. Con Napoleone nasce l'idea moderna di Stato, con i suoi confini, con il suo esercito, con la sua burocrazia, organizzato e centralizzato. Il sistema napoleonico, inoltre, ci ha lasciato lo straordinario codice napoleonico, codice civile, con il quale vengono regolate tutta una serie di materie estremamente moderne, il diritto di proprietà, il diritto di divorzio, cose che prima erano assolutamente inimmaginabili. Viene introdotta l'istruzione superiore con l'ausilio dei licei statali, tutta una serie di norme e di, come dire, modernizzazioni straordinarie. Lo Stato che aveva in mente Napoleone era certamente uno Stato accentratore, tutto passava da Parigi, ma era anche uno Stato efficiente, era anche uno Stato moderno, era anche uno Stato che, venendo dopo la rivoluzione francese, aveva totalmente rotto con l'ancien regime. Forse avete sentito parlare di Napoleone per tanti altri aspetti, era veramente un anerottolo, come si dice? Probabilmente no. Gli storici dicono che fosse alto circa un metro e sessantotto, che per l'epoca era una statura non indifferente. Probabilmente l'idea che fosse un anerottolo era, come dire, una maldicenza dei suoi arci nemici, gli inglesi, per sminuire la sua fama sui campi di battaglia. Ha rubato la Gioconda? Questo assolutamente no. La Gioconda, la Mona Lisa di Leonardo da Vinci, è a Parigi dal 1517. Il re di Francia lo aveva, Francesco I lo aveva acquistato. È vero che Napoleone ha saccheggiato parecchie bellezze italiane portandosene in Francia. Qualcuna è anche addirittura ritornata. Ma certamente non la Gioconda. Perché lo vediamo così spesso ritratto con una mano infilata nel gilet? Era un tic? Era segno di un mal di stomaco di cui soffriva? No. Era un modo con cui i ritrattisti dell'epoca, non esistendo, ovviamente, la fotografia, facevano mettere in posa i loro modelli. Napoleone ha avuto un'importanza in tutti i sensi anche nell'ambito, come dire, storico. E grazie alla sua campagna di Egitto, dove si portò i migliori egittologi, tra cui il famoso Champollion, che riuscì a decifrare la stele di Rosetta, un'iscrizione che ci ha permesso, grazie al fatto che ci fosse il testo geroglifico, il testo greco a fianco, di tradurre gli straordinari geroglifici egiziani. Namma Napoleone, e qua chiudo, ha avuto un'importanza straordinaria anche per l'Italia. L'idea di patria unita, l'idea di italianità, l'idea di nazione indipendente, nasce proprio con lui. E' lui che crea il regno d'Italia in Italia. Appunto. Fu un occupatore? Fu un liberatore? Fu semplicemente uno dei tanti conquistatori? Fu tutto insieme. Ma certamente, per la storia del nostro risorgimento, che porterà all'unità d'Italia, l'impronta di Napoleone è stata assolutamente determinante. See you later, alligator, in a while, crocodile. Bye! Bye!